Salve a tutti e con questo video siamo alla ottava lezione per assistenti. Prima di parlare del tema sulla comunicazione divina, vorrei fare una sintesi della lezione precedente che riguardava l'ascesi mistica. Abbiamo detto che l'ascesi è un salire a Dio, ma non è solo questo, è anche un alleggerire il bagaglio, cioè offrire a Dio le cose brutte che ci accadono, ma anche le cose belle. E Dio in cambio ci dà il suo amore, Dio ci dà solo le cose buone. Per esempio io, come offerta a Dio, dono anche i miei disagi, come il freddo invernale o la calore estiva, le sofferenze morali, le incomprensioni, le quali non costituiscono per me motivo di lamento, ma sono strumento di salvezza per tutte le anime bisognose, quindi è un'offerta. E' come una sorta di cilicio. Quindi in sintesi l'ascesi è una liberazione dagli infusi malefici del diavolo, in quanto ci avvicina a Dio. quando c'è qualcuno che mi rimprovera, io dico Dio grazias, meno male che c'è qualcuno che mi rimprovera e mi riprende, che c'è qualcuno che mi umilia rendendomi umile, che c'è qualcuno che mi corregge. Questo è fondamentale per la vita degli ascesi, è molto importante. Quando noi saliamo una montagna, facciamo molta fatica, ma una volta in cima, vediamo tutto il mondo e diciamo, ne è valsa la pena, ne è valsa la pena. Allora, continuo con la comunicazione divina. Dovete considerare che nel mondo dell'al di là ci sono tre realtà, che sarebbero Dio, gli angeli e le anime, queste sia del purgatorio che del paradiso. In questo video non parlerò né dei demoni e né delle anime dannate, che se volete possono dedicare un video a parte. Considerate che le anime dannate non hanno nessuna influenza sull'uomo, cioè sono morte definitivamente rispetto alle anime purganti o sante, che sono ancora vive, e intendo vive come noi, solo che non hanno l'ingongo del corpo fisico. Queste tre realtà sono di tre sostanze, ma che agiscono insieme all'unisono e all'unanime. Queste tre realtà sono composte di particelle visibili, o meglio, incorporee, che le compongono, proprio come avviene nella nostra vita reale. Infatti nel nostro mondo ci sono gli uomini, gli animali e i vegetali, che sono composti dai minerali e dai metalli, unite ai liquidi e ai gas. Un uomo interagisce con una pianta, o con un animale, proprio come fa Dio con gli angeli e le anime. Con l'unica differenza che è, l'uomo può scegliere se agire in bene o in male, mentre Dio agisce sempre in bene. Questa dinamica è scritta nella Bibbia molte volte, come voi siete santi perché io sono santo, oppure siete stati fatti poco meno degli angeli, oppure voi dominerete su tutti gli esseri viventi e gli darete i nomi secondo le vostre decisioni, cioè significa che saremo i rappresentanti di Dio sulla terra. Una cosa interessante è che anche Dio dà i nomi ai suoi angeli e lo fa in base al loro incarico e li conosce tutti. Pensate che gli angeli sono miliardi di miliardi, elevati all'ennesima potenza. Dio li conosce tutti. Per comunicare con Dio occorre una richiesta. Questa dinamica ce la insegna Gesù. Infatti, gli apostoli dissero a Gesù, Maestro, insegnaci a pregare. Questo significa che Gesù non pregava con gli apostoli, ma si ritirava da solo in un luogo solitario. E Gesù disse loro, Quando pregate, dite, Padre Nostro. Sul Padre Nostro sono stati scritti centinaia di libri, ma dovete considerare che il Padre Nostro è stato formulato nella lingua aramaica e non può essere tradotta. Ogni traduzione distorce il vero significato del Padre Nostro. Vi faccio un esempio. Nella nuova traduzione è stata sostituita la frase Non indurci in tentazione. Infatti, non è Dio che ci induce in tentazione, ma il diavolo. È stata sostituita quella frase Non lasciarci nella prova. Anche questa frase non è esatta, perché Dio non ci lascia nella prova, altrimenti non sarebbe Dio. Anzi, Dio è presente nella prova. Allora, come si traduce questa frase? Dovete considerare che Non indurci in tentazione e liberaci dal male sono due frasi che dicono la stessa cosa. Cioè, nel primo caso, ascolta la nostra preghiera, la nostra supplica. O meglio, fa che la nostra preghiera sia rivolta a te. Nella seconda frase ci indica Non farci rivolgere a un demone. Perché? Perché il demone si veste di angelo di luce e ci inganna. In sintesi, queste due frasi ci invitano ad andare in senso unico verso Dio e non in controsenso. Per fare questo occorre la conversione. Cioè, rivolgersi verso fare una richiesta a Dio e solo a Lui. Dio chiede che questo favore sia ricambiato perché anche Dio fa delle richieste a noi. Lo ha fatto con la Vergine Maria. Concepirei un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. E la Madonna ha detto sì. Un sì che ha salvato il mondo. Io vi confido che non ho mai ricevuto un sì da parte di una donna. Quindi non posso sapere cosa Dio ha provato in quel momento. Ma sono stato io a dire sì lo voglio alla mia professione religiosa sposandomi con la Chiesa. e vi devo dire anche che nonostante tra me e la Chiesa ci possono essere delle incomprensioni, disaccordi, dissensi, divergenze, modi diversi di pensare, la cosa che conta veramente è l'amore verso la Chiesa. Perché è l'amore che unisci due persone. E' scritto non separate quello che Dio ha unito. La separazione è l'incarico del diavolo chiamato anche il divisore. Quindi per fare una richiesta occorre la sapienza che viene da Dio. Dio sa già cosa vogliamo ma aspetta che siamo noi a fare la domanda. Quindi comunicare con Dio è fondamentale. Dio ci dà lo Spirito Santo. Gli angeli ci proteggono in base al loro incarico. Mentre le anime intercedono come degli avvocati presso Dio. E Dio non può dirgli di no. Per comunicare occorre la preghiera, la richiesta, è mettersi in un atteggiamento di riverenza nell'attesa della grazia. Nei dialoghi di San Gregorio Magno ed è scritto l'onipotenza di Dio tramite una esperienza mistica di San Benedetto con queste parole. Un certo servando, diacono e abate di quel monastero che il Patrizio Liberio costruì nella regione campana, aveva l'uso di fargli ogni tanto una visita di amicizia a San Benedetto. Si incontravano. Una volta si trattennero tanto che era già l'ora di andare al riposo. Mentre i fratelli dormivano, Benedetto prolungò la veglia in attesa della preghiera notturna e in piedi, vicino alla finestra, pregava. D'un tratto, fissando l'occhio nelle tenebre profonde della notte, scorse una luce scendente dall'alto che fugava alla densa ospurità e diffondeva un chiarore così intenso da superare persino la luce del giorno. In questa visione venne un fenomeno meraviglioso che lui stesso poi raccontava. Fu posto davanti ai suoi occhi tutto intero il mondo quasi raccolto sotto un unico raggio di sole. Questo ha visto San Benedetto ha visto con gli occhi di Dio. Ha visto il mondo con gli occhi di Dio. Cioè Dio vede tutto mentre noi vediamo solo quello che ci circonda. Quando incontrate persone che dicono che la preghiera non serve a niente non credetegli perché non hanno mai visto la potenza della preghiera quello che la preghiera può fare la preghiera allontana un demone e dovete sapere che la potenza di un demone è impressionante. Essere come Davide davanti a Golia essere dei guerrieri spirituali anche se a volte possiamo essere feriti dal nemico ma una cicatrice fa curriculum e diventiamo professionisti. vorrei che per qualche secondo abbiate modo di percepire una mia convinzione. Io ho fatto un'esperienza nel mondo dell'aldilà tramite una morte apparente ma molti non ci credono. Queste persone quando saranno trapassate faranno la mia stessa esperienza e diranno a saperlo le avrei divulgate avrei scritto un libro ma come dice la Sacra Scrittura neanche se uno ritornasse dal regno dei morti sarebbe creduto hanno i profeti credano in loro. Con questo video è tutto nel prossimo video parlerò dell'algoritmo della chiaroveggenza cioè come prevedere l'immediato con un calcolo matematico e andrò a spiegare una equazione con tutte le sue varianti. Si tratta semplicemente di calcoli di tenuta che si usano nell'ingegneria edile dei pilastri delle travi dei solai dei muri portanti l'amalgama del cemento il diametro di tondini di carpenteria il tutto applicato alle persone e alla dinamica spirituale. Questo serve per determinare cosa succede dopo un nubifragio dopo una tragedia dopo una disgrazia vento impetuoso che si abbazza sulla casa quindi dobbiamo costruire la nostra casa sulle fondamenta di Cristo e con questo è tutto e un arrivederci al prossimo video grazie a tutti Grazie.